Ehi, bentornati! Era da un po' che non facevamo un unboxing, in realtà ho un bel po' di cose da unboxare e tra l'altro devo prenderne altrettante da Stardust, ad esempio la limited delle mix e quella delle Itzy. Stavolta però è arrivato il momento di unboxare questo gioiellino che tra l'altro non è solo, infatti ci sono anche dei pre-order benefit di Weverse. Tutte queste cose arrivano da Stardust che, come ormai saprete, è il mio negozio K-pop di fiducia sia fisico che online, tra l'altro loro mi hanno anche donato questo in più e una photocard in più che credo che siano i pre-order benefit del set della versione Weverse, io l'ho preso solo uno anche perché le mie finanze questo mi permettevano, è la dura vita di un multi-stun. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e se vi sentite espansivi un bel commentino e anche che sono ufficialmente aperte le prenotazioni per andare insieme al Weverse con Festival a Seoul, quindi tutto il tour. Mi raccomando, siate veloci, è anche una bellissima occasione per andare a vederli noi per insieme! Scusatemi, sono i miei figli, è così. Sembra bello pienotto qua. Guardate quanto è bello argentato nei particolari. E questo è uno di quelli da estrazione che tra l'altro sono una fatica da rimettere a posto. Sotto abbiamo questo. Questo qua. E questo. Ok, tolgo subito le inclusion. Le inclusion si trovano tutte qua subito nella prima pagina, le togliamo subito. In questo caso non c'è il poster, quindi partirò dal photobook. If I die tomorrow, I will love you today. Ok. Xana è la versione che ho scelto io. Qualcuno di voi sa questa versione Xana cosa sia? Perché non mi ricordo se mi avevate risposto nella reaction, ma non avevo letto la risposta in caso. Quindi chiedo perdono se mi avete risposto e vi chiedo se potete ririspondermi. Guardate che bello, qua c'è un cuore. Wow. Mi piace già molto questa. Quanta bellezza, raga. Questa mi piace molto. Mi piacciono molto qui, Nicky e Sono. Molto belle queste pagine qua, così in contrasto. Arancione e viola sono sempre belli contrastati. Con questo pizzichio di azzurrino. Wow. Credo che sia una delle foto più belle di Jake che io abbia mai visto. Giuro, è bellissima. Come pure questa qua. Sto cercando di non mostrarvele tutte, è dura, ma wow. Ah, qui abbiamo Heesan nella sua versione Trunks, che è un personaggio di Dragon Ball. Non so se avete sentito bene Trunks con la K, ecco. Non vorrei creare incidenti diplomatici, raga. Eccolo qua. Molto, molto, molto bello. Wow. Oh, ma Jay? Jay con questi capelli così argentati, barrabianchi. No, ma anche per lui sono palesemente tra le foto più belle che abbiano mai fatto. Mi piacciono tutte, sto cercando di non farvele vedere tutte. E la miseria. Raga, guardate il nostro leader, Jun Won. Che bello è. Questa è bellissima, proprio anche come composizione, come luci, come tutto. Oh, tutte queste qua, tutte queste foto fatte così, mi piacciono un sacco. Anche quella di Jun Won è bellissima. E io non ero preparata a questa doppia pagina così artistica. Io, guardate, un poster così lo vorrei a dimensione 10x10 metri. Raga, how precious il nostro prezioso sono. L'area di Villain ce l'ha sempre. E qua non so come mai abbiamo il duo Jake-Sono. E poi abbiamo il nostro McNee. Ah, no, che non è solo. C'è anche Jay. Mamma mia, che bella è questa foto qua. Che bella. Mi è anche partita così la bocca. Bella. Mi sa smascellare. Per la loro bellezza. Ok. Wow. No, ma non è più il mio Nicky bambino, raga. Queste sono foto che fanno bene e allo stesso tempo fanno male. Ma da quando è diventato così adulto? Da quando? Wow. 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 Quella foto sembrava quasi generata da un'intelligenza artificiale. E qui abbiamo un po' di foto di gruppo. Molto belle. Queste sono un po' artistiche. Anche questa. E poi qua una doppia pagina dove sono tutti insieme. Meno male che hanno diviso tre da un lato e tre dall'altro. In maniera che la piega non li taglia. Anche questa mi piace molto. Qui il finale. Ok, abbiamo i loro ringraziamenti alla fine. E in fondo in fondo il cd che è incastonato. Eccolo qua. E' la prima volta che lo vedo. La pagina è piegata e nel buco della piega viene incastonato il cd. Molto bello. Poi all'interno dell'album c'era questo poster che credo sia un lyrics poster. Vedete ci sono tutte le lyrics delle canzoni. E di qua invece... Uh, ok. Un bel poster di gruppo. Molto carino. Queste sono le dimensioni. Ed è anche tipo un po' ruvidi. E' bello tra l'altro anche spesso come carta. E' il momento dell'inclusion. Abbiamo una cartolina. Eccola qui. Chi ci sarà? Ah, non c'è nessuno. Con scritto nei fugaci momenti eravamo connessi. Saremmo potuti diventare uno solo. Poi c'è il codicino di Weverse. Questa è una foto. Sembra proprio una foto. No, raga, questa è una foto. O è una foto o mi stanno ingannando. È palesemente una foto. Con Nikki, raga, questa è una foto. Come fa a non essere una foto? Cioè, guardate dietro. Può essere una foto. A sentirla è... Cioè, raga, io... Oh, sembra una foto. Cioè, sembra proprio una foto vera. È la prima volta che mi capita. E ci ho già lasciato le ditate. Fatemi sapere nei commenti. Più la tocco, peggio è. Fatemi sapere nei commenti se è davvero una foto. E qui invece abbiamo gli adesivi. Con i nomi di tutti i membri. Più i brillantini. Più il nome di Orange Blood dell'album. E stavolta questo lo apro. Non l'ho aperto con gli strecchizzi. Erano adesivi. Stavolta lo apro. Chissà se sono tatuaggi o adesivi. Vediamo un po'. Vorrei aprirlo per bene, ma il problema è che è qua in cima. Quindi rischio di fare dei danni. Ah! Ok, ok, ok. Sto riuscendo ad andarci intorno. Raga, ma... Profuma? What? Ma è un profumo? Possibile. Ma... Odora un botto. Ma è tipo profumo veramente. L'ho devastato. È un cartoncino imbevuto di profumo. E c'è scritto L'amore è più bello perché non è eterno. Apri le braccia. What? Solo in un album degli Enaipen poteri trovare il profumo. Senti un attimo. Non è male. Ha detto che non è male. Io sono scioccata da questa cosa. Ok? Cioè, dovevo aprirlo per bene per non rovinare tutto. Ho rovinato ancora di più. Vabbè. Dettagli. Ci rimangono. Quindi quattro photocard. Allora, la photocard dell'album è questa. Guardate il retro. Oh! John Won! Ok. Che carino! Poi questa così sbrillucicosa arancione. E la miseria! Jake! Jake! Ok. E poi qui abbiamo le inclusion di Weverse. Questa versione olografica di Nikki. Guardate che bella. E quest'altra versione così, un po' floreale, molto celestiale. Infine, Dulcis in fundo, abbiamo un portachiavino con specchietto. Vediamo un po' di togliere. Eccolo qua. Da un lato e dall'altro. Ta-da! Che è la stessa foto di questo. Questo è tutto quello che potete trovare dentro Orange Blood in versione XANA con i Weverse con Preorder Benefit. Grazie ancora a Stardust per cose come questa. Fatemi sapere se anche voi avete preso questo album. In che versione l'avete presa? Quali sono stati i vostri pull? Se c'è qualcosa che mi invidiate? O se pensate che c'è qualcosa che vi potrei invidiare io. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao! Intanto mi hanno uso questo. Aaaaaah!